Hello, welcome to Driving America! Siamo sulle strade della California, in attesa di visitare la Silicon Valley qui vicino, ci divertiamo con questo Ford Expedition, il motore EcoBoost 3.5 litri, ovviamente V6. Avevo delle porte più festità, nel senso che questo mezzo, paragonato dei candidati che abbiamo in Europa, è veramente enorme, è gigantesco, si sono comodi, anche i sedili posteriori, il bagagliario è molto grande, però in questa realtà non è così pariposto, si qui è agile, le manovre si devono fare veramente bene, la visibilità non è il massimo, ma la tenuta di strada è buona, si legisce bene in curva, anche l'accelerazione è buona, cioè l'idea è quella di non avere un mezzo pesante, in realtà. per me, sapete com'è? Qua nella Silicon Valley siamo circondati da giornalisti dell'Automotive, e ognuno ha i suoi riferimenti culturali, a me San Jose ricordava l'Intel, stamattina qualcuno mi ha detto che invece San Jose era famoso per Daeroo. Con questa perla vi saluto, ciao a tutti! Grazie!